Nel precedente video abbiamo visto come installare e configurare NetServer e quello che ci permette di fare al Wizard durante il primo avvio Oggi andremo a vedere quelli che sono i pacchetti installabili per l'appunto in NetServer, in quell'installazione Andiamo quindi a effettuare l'accesso all'interfaccia web di configurazione Andiamo quindi a prendere il Software Center e da Software Center avremo la possibilità di installare i vari pacchetti Oggi vi faccio vedere la parte e-mail, quindi andremo a selezionare e-mail, andiamo a installare tutti i pacchetti relativi all'e-mail Oltre questo io installo anche il connettore POP3, dove? Ora ve lo mostro, poi vi spiego cos'è Immagino, eccolo qua, POP3 connector, poi vi spiego cos'è Andiamo quindi a cliccare aggiungi, add, apply, ok Aspettiamo un secondo che termini l'installazione e mentre va avanti l'installazione vi spiego cosa farà ora il sistema Il sistema andrà a installare dei pacchetti, quindi DoveCot, PostFix, diversi pacchetti diciamo che serviranno quindi a trasformare questa installazione di NetServer in un server mail Possiamo quindi creare un server mail veramente facendo pochissimi click Ora vi dimostro infatti quali sono i passaggi Potrete quindi avere un server mail in locale, in azienda o dai vostri clienti Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che non avete limiti sul numero di utenti da poter creare Nei suoi utenti, nei suoi alias Ma soprattutto la dimensione delle email Possibile, quindi lo spazio possibile dei vari account è proprio la dimensione dei dischi del vostro server Quindi l'unica limitazione che avete è quanto sono grandi i dischi del vostro server Li potete ampliare nel tempo Ma ecco nessuno vi dice guarda puoi archiviare fino a 10 giga di mail, 1 giga di mail, 3 giga di mail Perché siete voi a decidere sia la quota dell'email per utente Che eventuali altri parametri tipo filtro antispam, antivirus eccetera eccetera Tutte le installazioni di NetServer integrano dentro di sé un antivirus che è ClamAV Una versione quindi open source gratuita E praticamente la parte di server mail integra anche l'applicativo RspamD Eccolo qua Se andate in applicazioni vedete che è compazzo automaticamente RspamD Cos'è RspamD? RspamD vi permette di fare delle statistiche, analisi riguardanti le email Vi fa capire che punteggio è stato dato a una determinata email Punteggio spam parlo E da qui potete analizzare quindi tutto il traffico che viene generato Se ci sono eventuali anomalie E' molto molto più semplice gestirlo da questa interfaccia Poi vi mostro anche questa Una volta installato il pacchetto andrete Se ritorniamo su un email Vi ricordate nel precedente video che qui compariva solo questa parte relativa allo smart host Ora sono apparsi domain, filter, mailboxes eccetera eccetera Come vedete ha preso automaticamente come dominio il dominio locale della macchina Qui dovremo quindi andare a aggiungere il nostro dominio email Quindi immaginiamo che il nostro dominio sia aizucchi.com Ti dice se questo dominio deve essere I messaggi che ricevuti a questo dominio devono essere indirizzati localmente O girati in un altro server Ovviamente li metteremo localmente Ti dice se deve accettare destinatari sconosciuti Mi raccomando non lo spuntiamo Altrimenti si riempie inutilmente Perché tanto l'email non esiste e non c'ha senso Ti dice se vuoi appendere automaticamente una nota legale ai messaggi Classica firma oppure questa email a solo scopo promozionale O viceversa questa email non può essere copiata, ingollata eccetera Quello che si legge spesso nell'email E ti dice se vuoi firmare i messaggi con il domain case Qui un discorso molto particolare Se vi interessa me lo dite nei commenti Faremo poi un video dedicato Andiamo quindi a cliccare submit Lui mi aggiungerà quindi automaticamente nel server La gestione di questo dominio email Andiamo quindi nei filtri Nei filtri mi dice se deve bloccare in automatico Ad eventuali allegati Quindi allegati dei file exe Degli archivi, quindi zip file compressi diciamo Oppure una lista customizzata Quindi personalizzata Quindi potremmo andare a specificare Ok bloccami Vedete di default mi segna doc o dt Che non so posso aggiungere doc x eccetera eccetera Se voglio bloccare determinati tipi di allegati Se devo abilitare l'antivirus Che clama v di cui vi parlavo prima Se devo abilitare l'anti spam E se si le eventuali soglie Quindi greylist, spam E rifiuto il messaggio sopra un determinato punteggio Per esempio spam, greylist lo lasciamo stare Spam praticamente il punteggio è 6 attualmente Quindi se un messaggio prenderà un punteggio maggiore di 6 Dai filtri Verrà automaticamente classificato dal server come spam Messo in posta indesiderata Se il punteggio sopra 20 Viene proprio scartato completamente dal server mail Quindi neanche viene aggiunto Ti dice se deve aggiungere un prefisso ai messaggi con spam O semplicemente spostarli nella castella posta indesiderata Altrimenti se selezionate di aggiungere un prefisso Aggiungerà questa voce Che voi potete scrivere come volete Prima dell'oggetto All'inizio dell'oggetto Le regole Qui è interessante Nel senso che se magari avete un dominio Che ne so Mario.it E volete che questo dominio non venga Neanche analizzato da eventuali filtri Potete metterlo come New Hello From Quindi permetti sempre da Oppure potete viceversa bloccare l'intero dominio Le caselle email Ti dice se deve abilitare l'accesso Sia in e-map che in pop E se deve autorizzare connessioni non sicure Quindi non Connessione senza SSL Senza nulla Se deve applicare una quota Qui la quota Può essere applicata Praticamente possiamo dire Che ogni utente Può avere massimo 30 giga di mail Questa quota è personalizzabile Poi in seguito da utenti e gruppi Quindi vi consiglio comunque di abilitarla In modo che avete una notifica Anche perché all'utente verrà poi notificato Guarda che stai Per raggiungere la mail quota Quindi attenzione Cancella qualche email Oppure contatta l'assistenza Quindi poi il cliente chiamerà a voi Oppure se è per voi Avrete poi una notifica Che l'email Che il server magari si sta riempendo Quindi fate un conto A seconda di quanto avete grandi dischi nel server Contate Fate più o meno una stima Quindi di quella che può essere la quota per utente Onde evitare di raggiungere magari I dischi Di avere i dischi pieni Via E ti dice se I messaggi che arrivano quindi Dallo spam Quanto tempo devono essere conservati Nella cartella junk Prima di essere eliminati Quindi nella cartella post-endita serata E soprattutto se muoverli lì Il root login Praticamente Voi potete accedere Se come amministratore Potreste inserire In un client di posta Un indirizzo email Senza conoscere le credenziali di quell'utente Utilizzando per l'appunto L'utente root Mari per fare dei controlli Per pulire l'email Senza stare a chiedere La password a tutti Da amministratore potete abilitare questa cosa Andiamo quindi a salvare Andiamo poi in messaggi Qui ti dice La dimensione massima Degli allegati E quanto tempo Il messaggio Può rimanere in coda Qui finora Un massimo di 4 giorni E ti dice Se vuoi mandare Sempre una copia In BCC In destinatario nascosto A Un terzo indirizzo email Non sono sicuro Che sia nascosto o meno Penso proprio di sì Poi in caso mai Possiamo fare una prova Però immagino che sia nascosto Smart host Quello che vi dicevo Nel precedente video Se volete utilizzare Un provider Un server smtp esterno Per l'invio di email Qui un discorso molto particolare Nel senso che Se avete una dsl Con ip pubblico statico Potete chiedere Al vostro provider Di cambiare il reverse dns In modo che sia uguale Al vostro server mail Eccetera eccetera Potete non utilizzare Un server smtp In caso contrario Potreste Potreste Aver bisogno Di impostarlo Potreste uscire Con un server smtp Del vostro provider O con servizi terzi Questo è un discorso Molto lungo Molto complicato Anche questo Se volete Se vi interessa Lo vedremo In un video dedicato L'smtp access E questo Interessantissimo Perché ci chiede Innanzitutto Se vogliamo Consentire Il relay Delle email Direttamente Dalle reti fidate Quindi tutti Indirizzi Che sono stati Specificati In trusted networks Hanno la possibilità Di inviare Come relay Quindi Tra virgolette Senza autenticazione Se dobbiamo Avilitare L'autenticazione Sulla porta 25 Ma soprattutto Possiamo Invece Per motivi di sicurezza Andare a spuntare Quest'opzione E andare A selezionare Il relay Per determinati IP Questo Per cosa ci potrebbe Essere molto utili Mi viene subito In mente Per le stampanti Ad esempio Le multifunzioni Le multifunzioni Che permettono Di fare la scansione Per email Impostando il relay Verso l'indirizzo IP Di quella stampante Riuscite facilmente A configurarla Anche sulla porta 25 Semplicemente Con un'autenticazione Base Senza eccessivi Eccessivi Protocolli di sicurezza Che le stampanti Sanno sempre un po' Complicate Da configurare Per chi ci ha provato Sa benissimo Di cosa parte Per chi lo conosce Fatto questo Come avete visto In pochissimi click In pochissimi passaggi Siamo praticamente Non ci crederete Ma pronti A ricevere email Cosa bisogna fare In questo punto Dobbiamo Ovviamente Andare sul pannello Di gestione I nostri DNS E il nostro dominio Impostare come record MX L'IP pubblico Di questo Della mia connessione A internet Nel firewall Andranno Forwardate Le porte Necessarie Quindi la 25 Per permettere L'ingresso Dell'email Dall'esterno Verso il nostro server mail Quindi verso l'IP privato Di questo server La porta 143 Se vogliamo Sincronizzare I client esterni In emap O in 993 O 995 Seconda se emap Pop Eccetera Una porta smtp Quindi 465 5587 A scelta Se vogliamo Ovviamente Aprire L'accesso Da esterno Al server mail Quindi configurare Eventuali client Di post esterni O smartphone Per l'accesso Al server mail E Altrimenti Ci basta Essenzialmente Aprire la porta 25 E già siamo Attivi Operativi Andiamo in utenti e gruppi Lui sicuramente Ci chiederà L'account provider Scusate Eccolo qua Infatti Ora per comodità Andiamo a installarlo Localmente Nelle dApp Facciamo install Di default Viene creato L'utente admin Vi consiglio Di cambiare La password Subito Altrimenti L'utente Non è attivo Questa password Vi servirà Poi per accedere Anche alla Rspamd No Ho scritto male Scusatemi Quindi Impostatene una Submit Ok Andiamo quindi A creare un altro utente Qui andremo a creare L'utente Che potrebbe essere Mario Chiacciolaizuki.local Mettiamo un nome Mario Rossi Andiamo a impostare Una password Per quell'utente E automaticamente Avremo creato Il primo Account Email Submit Praticamente Lui mi ha creato Già un indirizzo email Che se andate a vedere In Email addresses Lui mi crea Mario Chiacciolaizuki.local Perché in questo caso Io La macchina L'avevo già installata Ma solitamente Vi conviene già Chiamarla Non come Non rispettando Il dominio locale Ma rispettando Il dominio online Quindi Io Solitamente Poi ognuno Fa come vuole La installo Tipo Non so Servermail Aizuki.com In questo caso Se andiamo a vedere L'utente Mario Andiamo su Mail Aliasis Scusate Non so cosa Ho cliccato Mail Aliasis Eccola qua Non esiste Vedete L'email Mario Chiacciolaizuki.local Per questo Vi dicevo Vi conviene Direttamente Andarlo A chiamare E così Quindi noi dovremmo andare Mail Aliasis E cerchiamo Un nuovo alias Lo chiamiamo Lo andiamo a puntare Quindi a Zuki.com E lo chiamiamo Mario E diciamo che deve Buttare tutte le email Che riceverà Mario All'utente Mario Zuki.local Ad e salva Che significa Vi scrivo Un po' Meglio Per lui L'utente In questo caso È Mario Ok Che poi Voi abbiate Un indirizzo Che si chiama Per esempio Se volessi creare Un alias Lo chiamo Luigi Chiacciola Aizuki.com Potrei scegliere Che le email Che arrivano Luigi Chiacciola Aizuki.com Venissero Inviate Direttamente A Mario Guardate Se io creo Luigi Chiacciola Aizuki.com Gli dico Come destinazione Voglio che finiscano A Mario Ok Tutte le email Che arriveranno A Luigi Chiacciola Aizuki.com Verranno Forwardate In automatico A Mario Quello che Vi permette Di fare Essenzialmente Anche I provider Online Eventuali Caselle Di posta Condivise Tra più Utenti Stesso Identico Meccanismo E Da esterno Se il nostro Per assurdo Se il nostro Record DNS MX Dell'email Fosse già Configurato Sul nostro IP pubblico E la porta Fosse aperta Io Già sarei in grado Di ricevere E-mail Ok Proviamo A configurare Ora Un client Di posta Elettronica Per farvi Vedere Come funziona Io Qui ho Thunderbird Proviamo A configurare Thunderbird Impostazione Account Andiamo Aggiungere Un account Di posta Mettiamo Mario Mario Chiacciola Aizuki Punto Com Ovviamente Il domino Non esiste Ma non Ci importa Configurazione Manuale Ho scritto Male Scusatemi Punto Eccoci qua Configurazione Manuale Andiamo a Specificare L'IP Del nostro Server Copia Incolla Ecco qua Mettiamo Porta 143.993 Come preferite Io utilizzo Solitamente Queste porte Qua In start TLS Con autenticazione Normale Fatto questo Io vi consiglio Non di cliccare Fattore Esaminare Perché Di cliccare Configurazione Avanzata Perché Perché Praticamente Quando fate Ok Ora Eccola qua Vi dice Che il certificato Di sicurezza Non è sicuro Nel primo video Ho mostrato Come poter Che si potrebbe Vi ho fatto vedere Che si potrebbe Aggiungere Un certificato Nel server Utilizzando Let's Encrypt E Quindi Ovviamente In questo caso Il certificato Non è sicuro Devo manualmente Cliccare Conferma Accezione Sicurezza Se non voglio Fare questa cosa Potete creare Un certificato Let's Encrypt Direttamente Nel server Da qua Vi faccio vedere Server certificate E Praticamente Se andate A fare Richiedi Let's Encrypt Certificate Potete andare A creare Sul dominio Aizughe.com Magari Un certificato Sicuro Lui si creerà Il certificato Lo andrete A selezionare Qui sotto A rendere Predefinito E automaticamente Il certificato Sarà sicuro E eviterete Questo messaggio Che dava Il client Di posta Come vedete L'email Già attiva Quindi per assurdo Io potrei Già scrivere Un messaggio A me stesso Anche se Il domino Non esiste Perché tanto È un messaggio Interno Che il server Gestisce internamente Quindi Prova Prova Invia Vi richiederà Esatto Il certificato Questo solo La prima volta E quindi Nessuno Vi vieta E lasciarlo Così Senza Senza Grossi Problemi Fate invia E vedete Praticamente Che il messaggio È arrivato In posta In arrivo Eccolo qua Quindi questo È il messaggio Che ci siamo Auto inviati Vi ho detto Che avrei installato Anche il Pop3 Connector Magari avete Una linea DSL Non stabile Quindi dite Ma io Il server mail In casa Non è il massimo Averlo Perché In casa Intendo Tipo in azienda Oppure dai clienti Non è il massimo Averlo Perché magari Non ho internet Stabile Ho paura Perché Una linea Internet Sola Potrebbe cadere Ho paura Perché potrebbe Andar via La corrente Quindi il server Si spegne E poi Sto senza E-mail E-mail Ormai Sono Fondamentali È vero Ma è anche vero Che potete Praticamente Avere un dominio Presso un classico Provider online Che so Ruba Register Quello che volete Che un po' Probabilmente Dovrete Avrete Le email E poi andare a dire A net server Creando un Pop3 Connector Crea nuovo Vi posso andare a dire Che il mio indirizzo Realtà Mario Chiocciola Izuki Esiste già Quindi È già Esistente Su un provider Quindi l'email Finiscono A providere Che so Ipotizziamo Che abbiamo Questa cosa Su un server A ruba Quindi la nostra E-mail Sta fisicamente Su un server A ruba Quindi Emacs Punto A ruba Punto I Andiamo a configurare Come deve andare A leggere L'email Indifferente Non è che non le Cancella Eccetera Non cambia nulla Potete utilizzare Sia il pop Che in e-map Andiamo a fare E-map Con ssl Lo username Che probabilmente Sarà Mario Giacciola Zucchi Punto Com Passo Prova Prova Gli posso andare A dire Di consegnare I messaggi Direttamente A Mario Mario L'utente Locale Di net server In questo caso Gli posso dire Di controllare Questo Se ci sono Nuovi messaggi Ogni 5 minuti Ogni 10 minuti Ogni 30 minuti Ogni 60 minuti Mettiamo Che metto 5 Questo è L'unico Tra virgolette Svantaggio Nel utilizzare Questa soluzione Perché Perché Se qualcuno Ci invia Un'email Comunque Avremo Un delay Un ritardo Fino A un massimo Di 5 minuti Perché Ipotizziamo Che qualcuno Ci ha inviato Un'email Nel momento Esatto In cui Il server Appena finito Il controllo Potremmo aspettare Anche 5 minuti Prima di poterla Leggere Nel nostro Client Di posta Quindi Questo Magari Può essere Uno svantaggio Ma Un piccolo Prezzo Da pagare Per avere La certezza Di avere L'email Presso Un provider Ma di non Preoccuparsi Circa Allo spazio Che occupa Perché Essenzialmente Perché vi dico Questo Perché i messaggi Che poi lui Scaricherà Potete Dì Andarli Ad eliminare È un po' Come avere Un client Di posta In pop Per esempio In questo Caso Un server Che fa Da client Di posta In pop Ma per tutti I indirizzi Quindi Tutti I indirizzi Aziendali Sono salvati Qui dentro Nel vostro Server E poi I client Li vanno A prendere Qua Quindi Voi Backuppate Il server Il server È l'unico Contenitore Di tutto Non vi Dovete Preoccupare Di nulla Quindi Andare A salvare I messaggi Perché Sono tutti Archivati Qua Vi andiamo A dire Per esempio Di cancellarli Dopo due giorni Se clicco Summit Lui Inizierà A controllare Ogni 5 minuti La presenza Di messaggi Sul nostro Server Imap Di Aruba E li scaricherà E li mostrerà Nel nostro Client Di posta Quindi Se io avessi Configurato Qualcosa Mi li sarei Ritrovati Praticamente Qui L'unica Un altro Svantaggio Di utilizzare Questa soluzione È che Non potete Andare A selezionare Vedete Vi Automaticamente Non è selezionato Di scansionare I messaggi Alla ricerca Dei film Con In Ricerca Di spam Diciamo Diciamo Che ci sono Delle problematiche Se andate A abilitare I filtri Quindi Vi Sconsiglio Vivamente Di abilitare I filtri Quindi Lasciatelo Sempre Non spuntata Clicchiamo Su Submit Lui Mi ha Creato Questo Connettore Ok A questo punto La configurazione Dell'email È completa Vi faccio vedere Un attimo L'applicazione Quindi Rspamd Come vi dicevo All'inizio Se andiamo a cliccare Open Mi chiedere Credenziali Che è l'utente Admin Di cui vi ho fatto Impostare La password Prima Se andiamo ad accedere L'interfaccia È questa Vedete Uno stato Vedete Due email Scansionate Due pulite Vi farà vedere Quindi Una sorta Di statistica Ci sono Vari grafici Di email Rigettate Di come Si sono Comportati I filtri La Varie configurazioni Su Per l'appunto White list Black list Eccetera Eccetera Ma Più che Quello Che vi farà Comodissimo Sarà La history Sulla history Trovo Vedete I messaggi Inviate ricevuti Eventuali punteggi Eccetera Eccetera Come funziona In questo caso Vedete Il messaggio È stato ricevuto Da Mario Il destinatario È Mario Il soggetto Da quale IP Questo è interno Altrimenti Vi mostrava L'IP pubblico Del mittente Come Si chiama Il relay server Che vi ha inviato Il messaggio esterno Il soggetto E l'azione Quindi Praticamente Non è stata applicata Alcuna azione A questo messaggio Ha ricevuto Questo messaggio Un punteggio Addirittura Di meno 0,10 0,10 Su 20 Quindi praticamente Vedete I filtri Sono tutti Tutti a 0 Vuol dire che Il messaggio È sicurissimo Infatti L'abbiamo mandato Noi Da noi stessi A noi stessi Dal nostro server mail Al nostro server mail Quindi Un messaggio Sicurissimo Chi era l'utente Che ha inviato Il messaggio Quanto tempo Ha messo A fare lo scan E la data E la data è ora Di quando È stato Creato Inviato Quindi Da qui Potrebbe Per esempio Un cliente Potrebbe dirvi Ah ma io Ho problemi Non mi arrivano Le mail Da determinato Da determinata Persona Perché Non è possibile Non funziona bene Voi andate a vedere In realtà Gli è stato assegnato Magari un putteggio Esagerato Perché Non so Magari Utilizza il maiuscolo Su tutto l'oggetto E lui Ovviamente I filtri Danno un putteggio Un pochino più Altro Quel poco Che basta Magari Per superare La soglia Dei save Dello spam Che dicevamo All'inizio A quel punto Come si agisce Si va O a modificare In generale Il comportamento Del server mail Quindi da filtri Andiamo a sbassare Leggermente Ad abbassare La soglia di spam O ad ampliarla A seconda di Se riceve Troppo spam O troppo poco Spam Nel senso che Magari Messaggi reali Buoni Messaggi Chiamiamoli Così Arrivano in indesierata Andrete quindi A cercare Esatto Qui Quello che vi interessa Per esempio Non so Allegati Se il messaggio Allegati Ovviamente Non ha senso Mettere spam Un messaggio Solo perché O comunque Si ampliare La soglia di spam Solo perché Il messaggio È un allegato Che senso ha Che non volete Ricevere allegati Però era per farvi Vedere che qui Possiamo Personalizzare Questo valore Ok Quindi se io faccio Così Faccio salva Automaticamente Lui tutti i messaggi Con allegato Gli metterà Un putteggio Di spam Di due e mezzo In più Quindi questo messaggio Che noi abbiamo Visto qua Se avessi avuto Un allegato Non avrebbe più avuto 0,10 Ma 2,40 In questo caso Ok Quindi andrete voi A personalizzare Qui da Symbols Tutte le varie voci Ora È più complicato Dirsi che a farsi Poi vedrete nel tempo E imparirete Come muovervi bene Su questa interfaccia Detto questo La configurazione Nel nostro server mail È stata fatta Come vedete Configurare un server mail Con net server È molto 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 Semplice Più in là Magari so a modo Prendo un dominio Che non Magari nuovo Oppure uno che non utilizzo Per farvi vedere Proprio nel pratico Come configurare Record MX Direttamente in questo server E magari Come fare i forward Se poi vedremo Net security Se vi può interessare Questo genere D'argomento Fatemelo sapere Nei commenti Perché farò un video Dedicato proprio a questo Grazie ancora Per aver visto Questo video Mi raccomando Iscriviti al canale Lascia un mi piace Ciao Alla prossima